l'indignato eccoci qui buona domenica quattro minuti dopo le nove del mattino comincia una nuova puntata dell'indignato speciale devo dire è cambiato molto da come ci siamo lasciati a fine puntata domenica scorsa abbiamo un premier incaricato è Mario Draghi ieri si è concluso il primo giro eh di consultazioni domani comincerà il secondo un appoggio quello dalle forze politiche che sembra essere anche oltre le aspettative di questo vogliamo parlare con voi allo zero due venticinque quindici quindici ma subito a Roma ben ritrovato a Davide Giacalone buongiorno buona domenica Andrea Pamparana buona domenica buona domenica amici Luigi Santarelli buongiorno buongiorno a tutti buongiorno Enrico Galletti buongiorno Nicolo Giustini al social corner buongiorno buona domenica e c'è anche Massimo Lonigro che vi aspetta allo zero due venticinque quindici quindici Massimo buongiorno eccoci buongiorno a voi twittate l'hashtag come sempre indignato speciale vogliamo sentire la vostra su Magri Draghi e non solo parliamo subito i telefoni c'è Gennaro buongiorno benvenuto buongiorno amici un saluto a tutti un saluto particolare a Davide e ad Andrea buongiorno l'abbiamo riconosciuta signor Gennaro sono io sono io buongiorno cos'è che non sappiamo quest'anno abbiamo saltato il rituale ma la pizza e la pizza e la pizza e la la pizza e la pizza e la pizza e lo so bisogna rimediare qui prima o poi insomma siamo a Napoli Gennaro rimediamo prego Gennaro a livello politico che idea si è fatto lei allora buongiorno dicevo allora faccio una brevezza Draghi è la migliore cosa che in questo momento ci potesse capitare credo che sia la fine dell'uno contro uno a favore della competenza diciamo così detto ciò io credo che i governi tecnici comunque non esistano i governi sono tutti politici in primis perché i tecnici sono persone che votano e hanno le loro idee e poi perché questi governi tecnici per per vivere hanno bisogno dei voti della politica i tecnici devono piacere ai politici detto ciò il programma di Draghi come si fa a dire no al programma di Draghi è difficile di dire di no però vedo guazzabuglio che si sta creando intorno la base che lo sostiene comunque è molto 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 variegata e le scelte che farà Draghi sono buona parte in antitesi diciamo con le idee dei 5 stelle o con alcuni settori del pt non so come farà a trovare la quadra diciamo così sono ipotesi no vabbè perché se tu mi fai se tu mi dici nel tuo programma voglio rilanciare l'economia ragazzi rilanciare l'economia significa abbassare la burocrazia stop all'assistenzialismo giustizia più snella pratica più snelle cioè andare oltre quello statalismo e quell'assistenzialismo tipiche del pt non c'è dubbio credo che Gennaro abbia ragione di osservare questo è distante anche da molti altri diciamo così e lui è il signor euro cioè se voi dicevo voglio stringere la mano all'euro uno stringe la mano a Draghi la lega c'ha c'ha il simbolo no euro è uno teorizzato i miribond diciamo che abbastanza è distante da tanti luoghi comuni più o sulla lega io che Salvini da un lato lo capisco perché lui comunque sa che prima o poi tocca a lui però sa che se non piace a certi ambienti a lui non toccherà mai da lì a dire senza condizioni voglio dire proprio una resa una calata di braga e totale allora a quel punto lì viva la meloni che fa l'opposizione voglio dire non è che sì dichiarazioni dopo dopo le consultazioni chiarissimo comunque posso dirti una cosa ci saranno delle sorprese straordinarie perché tutti stanno tirando la giacchetta a Draghi e si dimenticano che cosa è successo questa settimana e cioè il commissariamento di fatto della politica da parte di un presidente della repubblica che non ha chiamato Draghi all'ultimo momento per la disperazione e c'erano dei contatti è evidente del resto mi pare che da questi microfoni ne avevamo già parlato allora il presidente della repubblica ha detto un governo praticamente di salvezza nazionale vista la situazione di crisi sia economica politica sociale ma soprattutto pandemica quindi sanitaria senza coloritura politica quindi non è che Draghi sarà sostenuto dal centro-sinistra dal centro-destra o da una cozzaglia dell'uno e dell'altro eccetera mi ricorda tanto lo dicevamo prima quelli che dicevano come l'ingegner De Benedetti come lo stesso direttore del Corriere della Sera Draghi lo conosco mai accetterà ma figuriamoci ma lui ma no invece perché no invece poi dicevano lui vuole fare il presidente della repubblica e lo farà e lo farà lo farà forse però partendo da una base molto forte grazie attenzione perché in settimana vedremo delle belle sorprese e molti di questi leader politici che sono andati da Draghi facendo i fenomeni torneranno a casa con le pive nel sacco o magari mettendo un tavolino faranno una serie di tavolini a piazza colonna grazie magari con le rotelle grazie Gennaro per essere stato con noi salutaci Napoli 0 2 25 15 15 noi vogliamo a Bergamo da Nino è vero buongiorno 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 Nino come ci segui dalla radio in macchina molto bene allora Gennaro prima non so se l'hai sentito al telefono diceva ha usato queste parole ha detto Mario Draghi è la migliore delle soluzioni possibili e soprattutto ha una base variegata a sostenerlo ha usato proprio questi termini e Andrea si è concentrato su quest'ultima su quest'ultima parte del suo discorso secondo te questa base variegata che lo sostiene è solo come dire sintomo della della situazione che stiamo vivendo quindi è necessario sostenerlo perché le sfide in gioco sono tante o ha a che fare un po' con un fallimento della politica come dice qualcuno della serie le abbiamo provate tutte ma non ce l'abbiamo fatta prego Nino Innanzitutto buongiorno buongiorno Davide buongiorno Andrea e RTL anche mia a parte stavo riflettendo proprio quello che ha detto il signore prima e sono d'accordo con Andrea perché questo vario pinto di politica che abbiamo e che adesso sicuramente ognuno di loro tirerà la giacca Draghi per avere il ministerio per avere delle cose ma la mia domanda era una ma se al Parlamento abbiamo ancora quelli che c'erano prima che hanno fatto solo cacciara come può Draghi con tutta l'autorevolezza che ha gestire un paese così allo sbando questa era la mia domanda perché il Parlamento è sempre quello non è che è cambiato cambia qualcosa poi così bravo proprio bravo bravo da poter gestire questa situazione tanto di cappello ciò poco Davide? Beh in realtà la la possibilità di cambiare c'è anche con questo Parlamento nel senso che il Parlamento ha relativamente al governo ha due ruoli il primo alla nascita votare la fiducia quindi che ci sia una maggioranza di parlamentari che rappresentano la sovranità popolare e che il governo quindi entri nella pienezza dei suoi poteri questo mi pare ad oggi scontato cioè sono fin troppi non c'è il problema di prendere la maggioranza poi vedremo quando presenterà la squadra di governo quale sarà la reazione delle forze politiche poi dopo di accompagnare l'attività del governo per esempio votando i provvedimenti che hanno valore di legge i decreti che devono essere convertiti e lì sarà una un lavoro quotidiano giorno dopo giorno ma io non credo che nel breve termine chi voterà la fiducia avrà la possibilità poi di staccarsi anche perché la popolarità di Draghi brucia quella degli altri cioè ma si è visto subito la prima settimana primi giorni diciamo alle prime ore quindi non non perché è possibile cambiare ma perché non è vero che va tutto male cioè ci sono pezzi importanti d'Italia che vanno bene pur nella situazione molto difficile che si è creata nel 2020 e che non riguarda solo l'Italia ovviamente però ci sono settori ai quali noi abbiamo aumentato le esportazioni ci sono scuole dove si è riusciti a far comunque più che scuole diciamo docenti che sono riusciti comunque a far lezione ragazzi che hanno comunque studiato se si dà maggiore attenzione a questo rispetto agli altri e tanto per essere chiari non è che c'è da credere che la prima cosa che fa un nuovo governo è smantellare gli errori sottolineo gli errori fatti dagli altri non è che la prima cosa che uno fa è cancello quota 100 cancello il reddito cittadinanza o cancello la cancellazione della prescrizione perché non è così si farebbe quello che hanno fatto gli altri cioè provvedimenti bandiera per dire ho fatto tu devi rifare devi ridisegnare lo stato sociale devi ridisegnare l'aiuto a chi ha bisogno devi far funzionare la con i mantempi ragionevoli la giustizia perché è incivile avere cancellato la prescrizione dove primo grado ma non è che rimetterle alla soluzione per la soluzione e far funzionare tutto questo richiederà tempo e proprio perché tempo e serietà quando questi progetti e questi questi disegni verranno presentati credo che le forze politiche non avranno neanche la spazio culturale per prendere le distanze non sapranno cosa rispondere i partiti non hanno alternativa cioè il primo partito allora parte la meloni che peraltro ha parlato di estensione e ha detto i vari provvedimenti verranno esatto annunciando il voto contrario una dichiarazione d'amore quasi esattamente nel momento in cui ci sarà il recovery fan piuttosto che i ristori eccetera noi ovviamente faremo come abbiamo sempre fatto ci saremo quindi e fa anche è anche un cosa buona e giusta che ci sia un frammento di opposizione come anche liberi uguali come anche liberi uguali che poi poi bisognerà vederli perché se gli lasciano il ministro della salute e speranza dovranno fare anche loro i conti è arrivato in settimana l'endorsement di locatelli che ha detto è stato un ottimo ministro c'è stato anche quello di ricciardi consulente speciale specifico del ministro speranza che ha detto spero che questi se ne vadano a casa e arrivi un competente vorrei aggiungere una cosa in questa settimana si è sentito molto dire il ritorno della della competenza il ritorno dell'intelligenza della preparazione della preparazione anche culturale scolastica eccetera ecco vorrei ricordare agli amici italiani che ci ascoltano che gli incompetenti sono stati eletti da noi e questo è un bel passaggio non è non è che si sono allora io faccio io faccio un nome io faccio un nome no perché non perché uno dice atti stantipatica la solina no perché la ritengo magari una persona bravissima degnissima ci mancherebbe altro per bene però come ministro lo trovate incompetente nel venero e questa è una mia valutazione non è che ha fatto un golpe lei no non è che ha detto adesso con la spada è entrata in viale trastevere a fare il ministro è stata scelta da noi da noi italiani dal primo partito dal partito di maggioranza relativa esattamente quindi a un certo punto io penso che anche noi cittadini dobbiamo fare un po' di autocritica e dire beh forse bisognerebbe ritornare a eliminare il concetto del deleterio dell'uno vale uno e ritornare a quella competenza che in qualche modo ha caratterizzato comunque anche anni di pensarci alle prossime elezioni casomai allora abbiamo intanto ringraziamo nino da bergamo abbiamo già antonino da trapani prima però un passaggio veloce con nicolo giustini che ci racconta cosa scade sui social sì allora c'è in realtà c'è molto ottimismo nei confronti di draghi dobbiamo dire sui social ci sono arrivati tantissimi messaggi però c'è anche chi scrive un'altra monti due chiamata a fare lavoro scomodo ordinato da bruxelles che i nostri politici mentecatti vogliono svincolare l'abbiamo già vista e purtroppo patita c'è anche chi dice però grande salvini ha dato attuazione del detto che gli idioti non cambiano idea ora tutti al lavoro e poi c'è anche chi scrive male dei 5 stelle dicendo i 5 stelle continueranno a fare i volta gabbana hanno rinnegato tutto o quasi pur di avere il potere questi dicevano che volevano cambiare la politica ma sono peggio di coloro che volevano combattere tra poco parliamo sia dei 5 stelle sia di questo paragone che veramente arriva molto anche nei giorni scorsi con con mario monti sono due scenari diversi evidentemente lo abbiamo lo abbiamo già ripetuto ma ci torniamo andiamo da antonino da trapani allo 0 2 25 15 15 antonino buongiorno e buona domenica buongiorno buona domenica rtl anche mia e allora io volevo dire questo sarebbe la per me sarebbe la cosa migliore andare al voto e dare la la parola al popolo perché questi politici hanno bisogno di per me di essere sottoposti tutti quanti alla macchina della verità non 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 hanno credibilità nessuno e draghi come dicevo qualcuno è uno di quelli che come dice deve fare il lavoro il lavoro che gli impone bruxelles e l'abbiamo visto pure con monti e che cosa dove andremo a parare ci stremeranno antonino antonino una domanda per seguire il suo ragionamento ma i 220 miliardi che arrivano da bruxelles sono imposti secondo lei oppure un'occasione poi 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 li dobbiamo restituire quindi che cosa voleva e cosa voleva 220 miliardi di regalo da chi poi dai contribuenti olandesi non ho capito no però però con condizioni più quindi poi con condizioni migliori a un prezzo molto inferiore rispetto a non lo so perché poi nel passare del tempo potranno cambiare molte cose soprattutto antonino questi tutti questi milioni e quando arrivò mario monti quando avevamo il problema opposto c'erano non ci sembra quindi sono contesti diversi ma anche l'Europa non cioè io diffido di tutte queste cose sì bisogna far ripartire però c'è troppo burocratese troppa non non credo più lei è di Trapani no? lei è di Trapani? sì sì io sono io la mia famiglia originale di Marzala quindi siamo a due passi da lei ma secondo lei c'è più burocrazia a regione siciliano o a Bruxelles? eeeh vince la regione sicilia vince la regione sicilia tutte e due si danno sì vabbè sì vero e allora scusi problema qual è? però però questi politici mi hanno combinato di troppo grosse cioè ripeto io per me abbiamo bisogno di votare antonino poniamo di andarci poniamo di andarci alle urne no? ecco poniamo di andarci lei che scenario si aspetta? che intanto che le 5 stelle spariscono cioè proprio implodano come movimento i 5 stelle? e Grillo torni a fare il comodo il comico scusate a questo punto a questo punto per il bene del paese perché non dimentichiamoci delle sfide che abbiamo in atto e soprattutto dell'emergenza in cui ci troviamo vediamo vediamo un po' chi arriva ad avere la maggioranza assoluta o la la proviamo riproviamo con la destra fra virgolette perché adesso sinceramente non si sta capendo più ok stiamo andando a voto e stiamo a vedere però sa cos'è che a volte noi cittadini ci confondiamo un po' le idee da noi stessi no? a uno dice basta bisogna cambiare questi politici a me piace giacalone io voglio giacalone il problema è che se giacalone non fa un partito suo o non viene scelto da un partito come candidato non ci sarà giacalone ci sarà e quelli che noi andiamo a votare sono quelli che vengono scelti dai partiti a proposito di questo Andrea ti leggo un messaggio su questo intanto salutiamo Antonino che ti rispondono dottor Pampagana noi purtroppo votiamo chi mettono sul seggio però non lo decidiamo noi noi votiamo il partito guardate che questo è il problema delle liste ma intanto votare il partito non è secondario perché per esempio il nostro amico Antonino che evidentemente non era un simpatizzante dei 5 stelle questo mi pare piuttosto solare si ricorderà che l'esplosione elettorale dei 5 stelle fu proprio in Sicilia alle elezioni alle regionali del 2012 quindi sono stati votati come se sono stati votati diciamo così e poi dopo alle ultime politiche sono stati votati e come se sono stati votati l'idea che oltre a votare il partito si debba votare il candidato a due possibilità diciamo tra i sistemi elettorali o il collegio in nominale cioè c'è una sola persona voti quello io vi assicuro che non cambia neanche l'ultima volta i 5 stelle hanno hanno votato e eletto sulla parte un in nominale uno che era andato in vacanza cioè se n'era andato perché non lo volevano neanche più quando era in barca e quindi come dire hanno votato il partito automaticamente oppure l'altra possibilità è di avere liste di candidati e mettere il voto di preferenza io l'ultima volta che ricordo queste queste discussioni era all'inizio degli anni 90 ed era diciamo così il volano della corruzione io non ero d'accordo con quel ragionamento ma non è che il paese può andare a pulsioni contrapposte ogni tanto diciamo cambiamo completamente tesi perché non c'è senso la verità è che alla fine nel medio periodo ogni popolo ha i rappresentanti che si merita e se il popolo italiano gli elettori italiani chiedono allo stato non di funzionare e di avere una burocrazia veloce ma di poter fare il bagno nel posto sbagliato di poter togliere una colonna al palazzo e di poter avere un sussidio in più eleggeranno delle persone che fanno l'evasione che fanno le irregolarità e che e che e che agiscono i sussidi poi a un certo punto i conti non tornano più tutto va a ramengo e allora dice non è che per caso c'è uno come draghi che viene è utile che nessuno si arrabbia e comunque tra poco parliamo del movimento 5 stelle perché naturalmente cerchiamo di capire cosa sta succedendo all'interno del movimento ieri il capo politico crimi ci ha detto qualcosa di estremamente importante 0 2 25 15 15 grazie Antonino andiamo a Brescia c'è Roberto buongiorno Roberto allora tra poco lo recuperiamo andiamo in pausa nel frattempo un paio di messaggi da Nicolo Giustini allora dice chi dice è vero che abbiamo mandato noi i 5 stelle al governo ma ricordiamoci che abbiamo mandato anche Berlusconi e ce lo siamo subiti per 20 anni con i risultati che sappiamo scrive Carmelo e c'è anche chi dice andremo anche a votare poi rimane tutto uguale lecce elettorale che non vogliono cambiare piace vincere facile c'è anche anche chi scrive spero che Draghi riesca a fare come Marchionne con la Fiat più avanti magari toccheremo anche il tena a scuola Andrea perché dopo che tu hai citato la ministra Azzolina si sono scatenati parecchi messaggi magari ne parleremo c'è chi scrive glielo ha spiegato la scorsa domenica alla professoressa perché se la Azzolina non è stata capace ricordiamoci allora i disastri di Maria Stella Gelmini e non solo va bene Roberto stai lì che tra poco torniamo da te allo 0 2 25 15 15 è vero i vostri messaggi al 3 7 8 3 7 8 8 100 2 5 continuate a twittare è RTL 100 2 5 come sempre l'hashtag è indignato speciale se volete entriamo anche nelle vostre case via zoom restate con noi abbiamo recuperato Roberto da Brescia benvenuto buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione RTL 100 2 5 anche mia buongiorno Roberto come ci segue da Brescia mi seguo dalla rado dall'auto ok in auto molto bene prego allora faccio una piccola premessa io non ho nessun schieramento politico sono rientrato in Italia nel 2012 dopo molti anni negli Stati Uniti nauseato chiaramente la politica italiana e quindi dipendesse da me cambierei tutto completamente visto che vogliamo assomigliare agli Stati Uniti farei comandare il governo federale come succede là quindi in questo caso sarebbe Bruxelles facendo pulizia totale andando a Mario Draghi sicuramente la scelta migliore che c'è l'unica anche direi i due quesiti che mi pongo è uno se gli italiani saranno capaci di lasciarlo governare perché oggi tutti tutti dicono Mario Draghi sembra Dio si infabula però dobbiamo che tenere presente che se andrà avanti Mario Draghi farà dovrà fare anche delle scelte impopolari che non piaceranno perché non possiamo andare avanti a mantenere tutti ma per risollevare il sistema economico ci saranno anche dei sacrifici da fare qualcuno verrà toccato e lì bisognerà vedere se siamo maturati o se continuiamo a fare gli italiani dove pensiamo di avere solo redditi di sostenimento e redditi di cittadinanza e pensioni e quant'altro. Roberto ha sbaglio quando ho citato la gestione centrale di Bruxelles ha recuperato un po' diciamo la proposta se non sbaglio fino a un paio di anni fa ne parlavano il PD ma soprattutto Matteo Renzi di questi famosi Stati Uniti d'Europa è questo che la intende? Esatto se noi vogliamo tutto il partito cercando di andare a controbattere gli Stati Uniti negli Stati Uniti è il governo federale che comanda i vari stati hanno poca cosa hanno solo delle piccole leggi locali beh allora mica tanto nel senso che intanto gli Stati Uniti e l'Europa sono alleati non sono in competizione secondo negli Stati Uniti non non comanda il governo federale intanto perché c'è un senato che rappresenta gli stati e che ha potere considerevole c'è una corte di giustizia che tutela la costituzione c'è una camera dei rappresentanti dove vengono eletti su base statale quindi noi diremmo regionale se tu cambia ovviamente la dimensione hanno il presidente degli Stati Uniti d'America eletto direttamente ma è che quindi è che ha un potere esecutivo ma come si è visto abbondantemente da ultimo con l'esperienza di Trump è un potere che deve fare i conti con i rappresentanti degli Stati inoltre gli Stati non è che abbiano che abbiano competenze su robe residuali cioè per esempio in alcuni c'è la pena di morte in altri no è una competenza statale non è una competenza federale quindi non la metterebbe in questione detto ciò io sono un europeista convinto come sanno i molti che mi hanno che mi hanno ripetutamente diciamo così e carinamente apostrofato per questa condizione gli Stati Uniti d'Europa non si faranno mai per la semplice maggiore non è che non è che quello è il meglio e noi non ci arriveremo non è vero non è così ma semplicemente perché gli Stati Uniti d'America era un'unità di Stati praticamente privi di storia o con una storia diciamo embrionale l'Europa è il cuore della storia abbiamo qualche millennio non si creano chi si deve creare non c'è alcun dubbio e proprio la stagione del covid sta creando con il programma next generation una maggiore capacità dell'unione che si chiama unione non federazione quindi non è un Stati Uniti per questa ragione dell'unione europea nella gestione finanziaria come nella gestione di sicurezza come la gestione delle frontiere queste queste cose ma guardate in Europa gli stati nazionali quindi le nazionalità nella fratellanza che io sento con i francesi con i tedeschi belgi iolandesi non spariranno mai per la semplice ragione che questa è la storia di questo continente quindi non possiamo così travestirci l'ultimo che ci ha provato era Nando Moriconi e Alberto Sordi un americano a Roma faceva ridere però più che altro grazie Roberto per essere stato con noi stiamo per portarvi a Bergamo prima però facciamo un passaggio a Nicolò Giustini per leggere qualche messaggio Nicolò sì ne sono arrivati alcuni molto interessanti c'è chi dice conoscendo gli italiani oggi Draghi è il salvatore domani Draghi sarà il nemico da abbattere c'è anche chi dice Draghi uomo delle banche per le banche così di 209 miliardi quello che non riusciranno a rubare le mafie andrà nelle pance delle banche Nicolò scusate questa è una cosa interessantissima se c'è un posto dove tendenzialmente detestato sono le banche perché questa è una cosa bellissima perché viene la banca centrale perché naturalmente la giustissima a mio avviso politica monetaria della banca centrale sotto la sua gestione che non era esclusiva non era una sua proprietà c'era un board che decideva lui comunque era il presidente ha aumentato la massa monetaria deprimendo i tassi di interesse il punto dove guadagnano le banche sui tassi di interesse quindi però c'è questa cosa che è bella no perché col copia in colla che il digitale favorisce l'uomo delle banche ecco dice che ragazzi siamo andati in banca è uno dei posti dove non è che quando lo vedono dicono e che bellezza sono contento gli voterebbero la fiducia no evidentemente si scherza la voterebbero per competenza però voglio dire Nicolò l'ultimo è interessante perché nessuno adesso parla più del gioco astuto di renzi sono convinta che fosse studiato da tempo ecco andrea tra poco arrivo da te su su matteo renzi intanto voglio salutare andrea da bergamo un omonimo che ci fa entrare in casa sua con zoom vero andrea buongiorno e benvenuto all'indignato speciale buongiorno buongiorno sì sì ecco sono riuscito a connettermi sono riuscito a mettere molto bene sulla ipad ecco il teatrino mi auguro lo sfondo sia all'altezza è un bel armadio un bel armadio di legno allora in questa domenica mattina come segui l'indignato speciale da bergamo intanto e bene sì sì adesso sono sono a casa quindi niente volevo riallacciare sì dicevamo con che mezzo tipo la radiovisione con l'ipad con l'ipad molto bene prego andrea cercare di stabilizzarlo al meglio però ecco qualcosa io volevo riallacciarmi appunto al discorso che adesso stavo parlando dell'europa dell'unione europea ecco dei poteri sì sicuramente io sono fortemente europeista antisovranista antinazionalista anche buonista diciamo volevo dire per gli anti così europeisti quelli che vorrebbero uscire dall'europa dico che ci sia o no l'unione europea tu comunque devi relazionarti con i confine con i paesi vicino con i paesi confinanti quindi comunque o fai un accordo che lo chiami unione europea o gli fai la guerra o fai altri accordi commerciali quindi questa ostilità verso l'europa comunque perché ce l'hai con la germania perché ce l'hai con la francia perché l'europa non ha abbastanza poteri o perché i 27 stati ognuno vuole andare per conto su tu comunque devi fare degli accordi quindi avrai sempre una germania i gemoni una francia con una forte economia e dovrai relazionarti con loro quindi è meglio fare un'unione insomma tu dici andrea non si può prescindere dai legami con l'unione europea e dicevi a chi vuole lo dico a chi vuole uscirne peraltro nel momento meno 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 adeguato no perché i fondi che abbiamo a disposizione da lì vengono grazie mille andrea per essere stato con noi e ricordiamoci che è l'ambito nel quale noi esportiamo più di più per più di ogni altro posto nel mondo cioè è il nostro mercato quindi quando si fa l'elenco di chi ci guadagna chi ci perde ci dimentichiamo sempre la parte in cui ci guadagniamo ma che è considerevole grazie andrea saluteci bergamo andiamo dall'altro andrea il nostro andrea pamparana avevamo lasciato in sospeso un'analisi adesso possiamo guardarci indietro sulla mossa di renzi che mossa è stata andrea certamente non è come qualche collega e anche amico ha detto mi ricordo benissimo quelle sere in cui si renzi è morto politicamente intendiamo ha fatto semplicemente renzi è riuscito nell'operazione di far sloggiare conte da palazzo chigi che io non era solo quello l'obiettivo cioè solo uno scontro tra loro due alla fine ma non è forse non era uno scontro fra loro due era una manovra che aveva l'intenzione di portare una personalità come draghi che cambierà il corso della politica italiana dei prossimi due anni come minimo draghi non ha un mandato per fare centocinquantamila cose ne deve fare quattro cinque al massimo no anche perché anche se dura tutta la legislatura siamo già a metà siamo già a metà esatto ma la cosa più più importante è che entro aprile deve essere presentato un piano dignitoso ecco e che a detta dello stesso paolo gentiloni che non è tedesco né olandese ma è italiano aveva detto beh insomma si può fare meglio e questo è forse ci dimentichiamo di questo aspetto no quando si parla degli incompetenti beh il piano di fatto dal governo precedente non era all'altezza delle aspettative dell'europa aveva ne avevamo parlato nel nel merito aveva alcuni aspetti che erano con delle delle lacune francamente imbarazzanti ci sono stati leggetevi sui giornali di questi giorni gli errori che ha fatto l'inps sei miliardi sei miliardi cioè una cosa di questo genere dovrebbe comportare serenamente senza nessun scandalo particolare le dimissioni del capo della dell'inps no cioè di tiri a squale tridico a squale tridico ed è vigilante ed è vigilante certo certo uno dice ma scusate non rendi che farà draghi lo riscrive lo riscrive o mette mano quello che c'è assolutamente lo riscrive va beh leggerà certamente quello che è stato scritto anche perché parte di quello che è stato scritto l'ha fatto il ministro Gualtieri e i rapporti fra draghi e Gualtieri non sono negativi e tra l'altro nel toto hanno collaborato insieme per molti anni lo conoscono si conoscono insomma vengono da quella roba lì ecco nel toto ministri di questi giorni che poi ricordiamo ha il suo valore non ce l'ha eh Roberto Gualtieri è uno di quelli a cui molti piacerebbe che rimanesse come ministro dell'economia proprio in virtù del lavoro sì guardate siccome siccome il toto di ministri è come sempre capita una una cosa che quasi mai ci azzecca però appassiona sempre amen è come il calcio mercato allora io il toto ministri non c'è io vivo in una granitica certezza che c'è l'articolo 95 della costituzione l'articolo 95 della costituzione recita che l'indirizzo al governo lo dà il presidente del consiglio che ne mantiene l'unità di indirizzo per l'appunto che le decisioni prese in consiglio dei ministri comportano una responsabilità collegiale di tutti per cui quelli che erano dice io sono ministro ma non era d'accordo non hanno manco letto l'articolo la costituzione e ci hanno giurato ma non hanno letto e terzo ciascuno il ministro è responsabile per gli atti del proprio di castero ciò significa che nel caso del governo draghi per capacità per competenza ma soprattutto per necessità di indirizzo all'economia il ministro l'indirizzo sarà dato da palazzo chigi cioè da mario draghi poi dopodiché ci sarà sicuramente un ministro molto competente chiunque si sia la responsabilità sarà al ticolo 95 e credo che sia così anche per gli esteri e siccome ci sarà un piano per il recovery fund tutto quello che riguarda gli investimenti che badate bene devono essere rendi contati fin da subito dettagliati con un cronoprogramma non quella roba dicendo spendere tutto quello che sarà in quel programma rientrerà nella responsabilità di palazzo chigi e quindi dell'articolo 95 della costituzione fuori ci resta poca roba quindi cominciate a ragionare sull'idea che governa la draghi e poi rendi contati speriamo non come questi sei sei miliardi che si sono dimenticati speriamo speriamo meglio tra l'altro poi a proposito degli esteri tra poco potremo fare anche un passaggio sul futuro di giuseppe conte adesso perché alcuni hanno detto poi subito smentito che sarebbe potuto andare lui alla farnesina a fare il ministro degli esteri del nuovo governo draghi palazzo chigi ha smentito l'ipotesi però comunque quale futuro aspetta il premier andrà capito andiamo a torino c'è giorgio al telefono benvenuto buongiorno rtl anche mia buongiorno giorgio come ci segue da torino vi seguo sono quasi sempre in viaggio la domenica mattina e vi seguo con il bluetooth bene naturalmente adesso mi sono fermato beh intanto volevo fare i complimenti a mattarella per la scelta di draghi eh io sono un piccolissimo imprenditore da 40 anni eh e ho notato negli ultimi vent'anni una discesa politica in italia spaventosa sono molto fiducioso e mi auguro che draghi riesca finalmente a dare un inizio di cambiamento ai nostri governi questo è quello che devo che che ho nel cuore da quando eh mattarella appunto ha chiesto a draghi di provare a formare questo governo sembra proprio che ci riesca e sono molto fiducioso volevo precisare che erano anni veramente che io avevo perso completamente la fiducia nella politica benché draghi non sia un politico ci mancherebbe ne sono ben conscio questo è un passaggio importante eh devo dire che arriva insistentemente al tre sette otto tre sette otto cento due cinque la voglio girare a tutti voi anche a lei Giorgio se vuole eh questo questa riflessione provo a riassumerla allora se è vero che eh il governo Draghi sta per ottenere la fiducia più o meno su tutti i fronti quasi su tutti i fronti quasi da tutte le forze politiche dove si giocheranno a livello politico le sfide nei singoli provvedimenti questo ce lo chiedono facciamo un primo passaggio da Davide poi Giorgio se vuole aggiungere qualcosa allora c'è un punto fondamentale la nostra è una democrazia nelle democrazie occorre che ci sia una rispondenza fra il voto e chi governa nessun paese nessuna democrazia del mondo leggi direttamente il governo questo perché sia chiaro eh neanche negli Stati Uniti perché poi lo nomina il presidente dopo avere vinto le elezioni i primi grandi elettori ehm ehm eh e però c'è naturalmente una rispondenza c'è fra il voto del dei francesi dei tedeschi degli italiani dei belgi e il governo di Francia Germania ovviamente noi adesso ci troveremo in una condizione anomala che non è la prima volta per la verità nella storia Italia allora qual è cioè un governo che avrà una maggioranza ampia ma praticamente tutti quelli che sono stati eletti e che porteranno il consenso al governo Draghi avevano raccontato agli elettori una storiella fasulla ma molto diversa se non praticamente opposta allora qual è la domanda è quale sarà lo spazio la ricostruzione del canale democratico della rappresentanza democratica mano a mano che andrà avanti il governo Draghi e saranno fatte scelte utili ma anche ehm in qualche modo discusse se non dolorose il compito della politica sarà quello di spiegare di raccontare di rappresentare o domani mattina quelli che prima erano contro l'euro adesso sono per il signor euro dopo dopo domani mattina vanno reazione dicendo avete visto che è fallito l'euro allora siamo uno euro no perché lì siamo alla pagliacciata vale la stessa cosa per i vari schieramenti poi saremmo alla pagliacciata totale allora se la ricostruzione il lavoro politico sarà su quello sulle provvedimenti e quindi sul voto di aula per i provvedimenti esiste uno strumento sono quelli degli emendamenti e lo vedrete subito perché se avrete la pazienza di seguire gli emendamenti che vengono presentati riconoscerai quelli che dicono come di maio fenomenale devo dire questa settimana e adesso è l'ora del debito speso bene perché fino adesso era quella del debito speso bene ecco sugli emendamenti li vedi subito i quelli spesi bene o spesi male nell'interesse generale o nell'interesse di parte grazie Giorgio allora ci colleghiamo con zoom e andiamo a casa di Mario Mario buona domenica benvenuto buona domenica sono onorato davvero di essere collegato con voi quest'oggi io sono però in Lettonia questo non l'avete detto sono molto lontano dall'Italia dire il vero in una cucina molto italiana devo dire perché ci segue in radiovisione non è eccezionale allora io volevo dire una cosa dove in Lettonia a riga a riga c'è un grande quartiere liberty molto molto europea e molto una bellissima città una bellissima città ecco io volevo dire una cosa io sono uno di tanti italiani che dall'italia sono venuti all'estero e lavoro un po' nel vostro settore io organizzo un talent musicale che si chiama io talent europa ma volevo dire una cosa voi avete parlato di draghi no avete parlato avete dato una battuta di Di Maio di qualche ora fa dicendo speriamo che i fondi vengono usati nel modo migliore però io credo che la presenza di draghi sia sicuramente un plus visto quello che è successo nell'ultima settimana e la figura barbina che abbiamo fatto un po' con tutto il mondo con queste discussioni inutili però io non credo che sia il miracolato non credo che sia la persona che possa stravolgere quella che è la realtà italiana ma sono sicuro che con il supporto soprattutto delle forze politiche che a questo punto credo che vogliono partecipare solo per non perdere il treno di draghi ma non perché ne siano veramente convinti di voler partecipare al governo draghi forse ci potrà essere un cambiamento perché non saranno più le forze politiche a decidere ma saranno delle persone che veramente conoscono quella che è la fame degli italiani e quelle che sono le problematiche economiche degli italiani non è più un governo politico ma è un miscuglio tra un governo che conosce le realtà e un governo politico e che ci deve naturalmente aiutare a gestire una fase estremamente delicata e inedita per certi versi per il nostro paese e allora in un flash la risposta al nostro amico dalla Lettonia Mario Draghi non fa miracoli o forse tutti se li aspetta i miracoli li fanno solo i santi per quelli che ci credono e quindi ti auguriamo da italiani che faccia un buon lavoro che lo facciano lavorare perché se fallisse il lavoro di draghi cadremo nel baratro è una forma di responsabilizzazione degli altri pensare che adesso fa tutto lui no no arriva uno bravo ci pensa lui noi 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 stiamo con quelli bravi tra l'altro il problema ecco come diceva anche il nostro amico nel momento in cui proprio da capo del governo dovesse portare avanti una misura che cozza un pochettino con le ideologie se qualcosa c'è rimasto un pochettino con uno dei partiti toccherà vedere allora il voto tra poco continuiamo a parlare di questo e anche delle immagini che arrivano periodicamente gli assembramenti ieri nel primo sabato giallo in quasi tutte le regioni restate con noi allo 0 2 25 15 15 rimaniamo in realtà in tema comunque attualità parlando di zona gialla ancora ulteriori foto sui giornali sui siti sui social del primo weekend giallo per molte regioni ormai insomma sono rimaste solo cinque se non sbaglio le zone arancioni e poi la polemica sui ristoranti tra il governatore toti in generale le regioni e il comitato tecnico scientifico nonché il governo per riaprire ristoranti anche a cena in zona gialla e anche a pranzo in zona arancione un passaggio da nicolo giustini che ci dà una mano anche per i messaggi sulla figura di draghi dell'ora precedente sì come dicevo prima c'è tantissima positività c'è chi dice draghi è un'eccellenza nel mondo una fortuna per l'italia è la nostra salvezza ma c'è anche qualcuno che dice ogni volta che votiamo un governo questo cade ci troviamo a essere governati da chi non volevamo votiamo un governo no no nel senso che il presidente del consiglio non si vota però vabbè si capisce forse il senso e magari anche la delusione che per quanto mi riguarda ci può un po stare 0 2 25 15 15 andiamo da roberto ci aspetta collegato via zoom dalla sua auto è vero roberto buongiorno assolutamente in viaggio in questa bella terra per terra che la nostra sicilia molto bene molto bene viaggio per lavoro 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 in uno dei settori che sta solo aumentando la sua attività nonostante il terribile momento che tutto il mondo passa perché quello delle energie rinnovabili mondo delle energie rinnovabili che potrebbe fare molto di più soprattutto anche sentendo molti degli argomenti di questi giorni di quello che il nostro illustre personaggio italiano mario draghi che abbiamo solo la fortuna di averlo e dovrà fare perché se vogliamo sbloccare investimenti che siano già disponibili ma in grande parte anche in enormi quantità che sono quelli per gli investimenti positivi la finanza buona la burocrazia italiana ci ci danneggia in maniera drammatica allora quello che dici roberto è estremamente interessante tu hai sentito che noi abbiamo aperto questa ora dopo aver parlato per un'ora naturalmente dei temi politici cercando anche un po di essere vicini alla vita quella delle persone che magari nulla a che fare con la politica noi ieri abbiamo visto per la verità lo vediamo sui giornali di oggi le nuove le ennesime foto che documentano gli assembramenti durante il primo sabato in zona gialla per quasi tutte le regioni italiane che idea ti sei fatto abbiamo imparato come comportarci queste foto vanno un po a tradire i veri comportamenti delle persone siamo diventati bravi dici la tua per la mia esperienza che viaggio tantissimo faccio tantissimi chilometri viaggio per frequento gli alberghi dove l'unico posto dove la sera posso mangiare devo dire una grande rispetto delle regole ovviamente le foto che vedo anch'io perché naturalmente anch'io osservo i giornali e i telegiornali mi preoccupano molto perché in larga parte molte delle persone non hanno ancora capito che non siamo ancora assolutamente usciti dalla pericolosità del contagio quindi sono due situazioni molto diverse tra chi per lavoro come me vede un mondo che si è attrezzato con le protezioni gli alberghi che si danno tutte le sicurezze possibili quindi ci sono due cose che vanno molto in antitesi tra il mondo che vuol lavorare e che sta attento e persone che sono anche posso dire turbate da informazioni continuamente che portano in confusione giallo verde rosso finale 10 finale 12 finale 6 molta gente non capisce non c'è dubbio però tutto sommato si ha di fronte a queste notizie l'affollamento di ieri al fine settimana si ha un atteggiamento almeno io ho un atteggiamento duplice da una parte uno dice ma fortunatamente meno male sono usciti ci si va al ristorante ci si muove perché sarebbe stato veramente grave e molto preoccupante il contrario cioè che non ci fosse una reazione e dall'altra parte invece si fa la considerazione che fa lei e che facciamo tutti e cioè cerchiamo di comportarci anche con una ragionevolezza perché non è questione solamente di cosa c'è scritto nel dpcm ultimo ci stanno anche la mia personale senso di responsabilità e la voglia di non creare danno agli altri e non crearlo a me stesso lei fa un lavoro roberto nella nella nell'economia nell'energia rinnovabili vedete che racconta molto di questo paese intanto perché per la grande maggioranza di quelli che ci ascoltano l'energia rinnovabile è una sorta di mito ecologico no è una cosa bella perché si fa l'energia senza bruciare idrocarburi che ci sta perché non è che uno si possa intendere di tutto però noi abbiamo è vero cioè si fa è così però dietro c'è un'economia vera profonda importante noi abbiamo attirato capitali di investimento sulle rinnovabili in italia perché tra l'altro il contributo che veniva dato era molto molto alto era più alto diciamo di quanto non avvenisse in altri paesi europei solo che per esempio questo non era stabilizzato nel tempo mentre in altri paesi in altri in altri mercati dove si poteva investire si diceva questo è il contributo di oggi domani sarà tot dopo domani c'è inteso come anni ha una sua stabilità una sua programmabilità per cui puoi fare un business plan noi gli davamo anno dopo anno con l'incertezza dell'anno dopo col risultato che magari non hai attirato gli investitori migliori ecco mettiamolo così quelli che una volta si chiamavano gli speculatori accanto a loro ce ne sono altri che hanno fatto diciamo decentemente il loro mestiere in fondo ancora oggi per il consumatore l'energia verde è un costo in bolletta quel costo in bolletta dovrebbe essere compensato naturalmente da minori costi collettivi che sono danni collaterali come per esempio l'inquinamento naturalmente ma dovrebbe poi essere tutti dovremmo poi essere tutti sicuri che dietro quella pala eolica che sta girando che ha ricevuto dei contributi oltre al contattore di quello che sta producendo ci sia anche un cavo che lo porti in rete che sia utilizzato e che non rimanga teorico tutto questo chiedo scusa se vi ho fatto perdere tempo perché poi le cose concrete sono noiose ma perché governare fare le cose bene non è solamente dire la parola che piace e il progetto che attira soldi c'è l'esecuzione l'esecuzione è una cosa lenta noiosa ma che richiede tutti questi passaggi se no alla fine fai il fighetto dell'energia rinnovabile e butti via i soldi del contribuente a proposito di sviluppo sostenibile mi riferisco a lei ovviamente non è il caso il nostro amico roberto a proposito roberto in 30 secondi poi ti lasciamo la tua domenica di lavoro tu hai parlato di investimenti da professionista del settore magari se vorrai ci dirai anche di preciso di che cosa ti occupi cosa dovrebbe su cosa dovrebbe investire il nostro paese adesso che i fondi a quanto pare ci sono ce ne sono in abbondanza per quanto riguarda il green 30 secondi allora indubbiamente innanzitutto mi occupo di energie rinnovabili nella nella qualità di fotovoltaico e di biomassa e biogas per la prima oggi i contributi non esistono più già da anni e infatti si chiama grid parity non abbiamo bisogno di assistenze diciamo finanziarie statali per quanto riguarda come si può progredire il oggi abbiamo già per la maggioranza delle terre italiane la mappatura digitale per la maggioranza delle delle terre italiane abbiamo le le problematiche conosciute cioè le visure ti dicono esattamente se puoi o non puoi però è assurdo che se io faccio un investimento di grande dimensione su terreni dove porto anche benefici economici e tutela dell'agricoltura attenzione oggi le tecnologie permettono di fare due cose insieme agricoltura energia non sono due ostacoli non posso avere il dubbio se posso o non posso farlo il vero problema è chiaro è chiaro il suo punto di vista grazie grazie per essere stato con noi buona giornata buona domenica abbiamo apprezzato tantissimo permetteteci anche di aggiungere questa nota la cintura di sicurezza da fermo alla faccia di chi ci dipinge come indisciplinati a proposito nicolò è bastato nominare le foto degli assembramenti di ieri nei centri delle varie città e insomma sono arrivati un sacco di messaggi scatenato il putiferio c'è chi dice si chiudi se chiudi cinema teatri musei centri commerciali è evidente che la gente si riversi nel centro delle città decisione stupida c'è anche chi dice bisogna fare un distinguo tra città e paesi soprattutto quelli piccoli in questi non esiste l'assembramento che si vede a milano a napoli e poi c'è anche chi dice io vorrei vedere ogni tanto delle foto dall'alto degli assembramenti perché penso che gli italiani magari non tutti ma rispettino le regole allora facciamo un appello a chi abita più minimo al quinto piano sesto piano attico sarebbe l'ideale di farci arrivare qualche foto se poi a un drone per caso in soffitta meglio ancora Bruno da Ferrara buongiorno 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 piacere di ospitarmi nella vostra trasmissione e vada a sé che i complimenti seguono la ruota eh chiedo scusa ma il mio pensiero era molto semplice in questo contesto dove praticamente si punta il dito nei confronti della gente che eh democraticamente ma soprattutto normalmente eh va a spasso va a fare shopping compere via discorrendo credo che eh aprendo parentesi eh tutto questo sia frutto di una cattiva programmazione del secondo lockdown appunto primo dopo l'esperienza già del primo e eh soprattutto anche proprio perché noi come popolo non siamo mai stati e non siamo abituati a vivere in un carcere senza sbarre ma sentendo questa pressione sulle spalle che ci costringe a modificare il nostro modo di vivere e di agire scusi una sola domanda eh Bruno che cosa intende per eh programmazione cioè errori nella programmazione delle zone gialle? Ah guarda ce ne sarebbe da dire no ma concretamente concretamente come sta dicendo lei eh è sbagliata è stata sbagliata la seconda programmazione perché posso capire eh la pandemia di taloggio domani con tutto quello che le porta perché purtroppo abbiamo sempre dei governi che sono abituati a lavorare in emergenza eh perché non sanno fare a lavorare normalmente ma a parte questo se non è il problema o fa parte del problema voglio dire un conto è ripeto sapere se vieni da un'esperienza di quel tipo lì e vado a sé che se tu chiudi tutto e quasi tutto le persone appena potranno avere uno spiraglio d'aria andranno fuori a respirare completamente cioè va è normale è normalissimo non è che il Bruno da Ferrara potesse scoprire l'acqua calda insomma Bruno lei sta dicendo che in realtà abbiamo un problema quindi cioè che le immagini che vediamo effettivamente rispecchiano l'effettivo comportamento delle persone perché secondo me invece io trovo che insomma il comportamento generale degli italiani in questo periodo sia ottimo naturalmente con le dovute eccezioni eh che vanno segnalate perché naturalmente certo certo su questo concordo in parte però se lei mi permetta automaticamente lei sa meglio dire siamo a 60 milioni di teste eh se il 50% praticamente sappiamo che eligio alle regole ai doveri l'altro 50% magari potrebbe essere se non è così e quindi io che sono il tuo eh governante quello che ti indico la strada non fa eseguire non mi devo preoccupare dei buoni italiani mi devo preoccupare di quelli che non sono buoni quindi devo studiare è chiaro è chiaro la metà di tante persone sono comunque tante persone da da gestire Bruno chiarissimo buona domenica grazie per essere stato con noi altrettanto è curioso come nessuno abbia fatto caso se non pochi al fatto che i più grossi assembramenti eh siano stati fatti in questi giorni non da quelli che andavano a prendersi l'aperitivo finalmente o andavano nel negozio a comprarsi le scarpe che da mesi non riuscivano a comprare ma dai giornalisti e dai politici perché l'assembramento che c'è stato l'altro giorno col tavolino di casalino in piazza ehm chi ha davanti a palazzo chiggi provocato esatto o gli assembramenti in via del vicario tra l'altro non conoscerò ma le strade intorno al parlamento sono strettissime beh lì non c'è stato nessun controllo non c'è stato nessun intervento eppure di forza dell'ordine lì ce ne sono parecchie eh certo ci mancherebbe altro allora uno dice beh ma allora il ristorante sotto casa non può aprire a pranzo oppure adesso potrà aprire a pranzo ma non a cena però potete fare quello che vi pare perché voi siete diversi anche questo è una brutta immagine è vero è vero Andrea hai citato i ristoratori noi ne abbiamo proprio uno in linea è Fabio collegato via zoom con noi è vero Fabio buongiorno ciao buongiorno buongiorno in diretta da un ristorante ma dove siamo noi siamo ad alto passo in provincia di Lucca Lucca molto bene prego i grandi produttori di pane da quelle parti ma il pane è quello senza sale cioè quello il pane sciocco eh esatto non mi veniva il tema con quello che noi qui al nord non so non amiamo tantissimo però è caratteristico perché è bello che questo signore considera la toscana a sud estremo noi del nord evidente evidentemente no è buonissimo facciamo così è buonissimo il pane buono il pane da topasso è molto buonissimo prego il pane è meraviglioso noi produciamo anche salumi qui nel nostro locale quindi abbiamo tutte e due pane mortadella fine del mondo prego Fabio allora la tua opinione su ristoranti in zona gialla aperti anche a cena il vice ministro della salute Sileri si è detto favorevole ha detto con controlli rigidi chiaramente però io terrei aperti in zona gialla i ristoranti anche fino alle 22 che ne pensa? Ma ne penso che sarebbe già qualcosa per un settore che è stato completamente ammazzato no perché poi lasciamo perdere anche il discorso dei fondi perché ormai non servono più a niente eh avere anche i fondi a fondo perduto dal dallo stato comunque non ti aiuta a pianificare niente per il futuro no eh poter aprire già fino alle 22 non solo secondo me si risolverebbe anche un po' il problema dell'assembleamento perché adesso la gente comunque sa che alle 18 comunque i locali chiudono e quindi eh non c'è più neanche lo stacco tra la pausa pranzo e il pomeriggio perché praticamente specialmente nei fini sette fine settimana eh finiamo la pausa pranzo noi abbiamo 200 posti a sedere eh ovviamente con tutti i distanziamenti del caso eh quindi quando il locale è pieno alle tre finisce la pausa pranzo alle tre cinque ci sono già i ragazzi le persone le famiglie che vengono comunque a fare merenda o quantomeno escono per prendere sul caffè o una cioccolata calda alle sei si crea quindi si crea un assemblamento prima e si crea un assemblamento alle sei perché poi tutti stanno lì fino alle sei e giustamente quando vanno via vanno via tutti insieme perché alle sei e due minuti ci sono i vigili davanti al locale a ditti che tutti devono uscire dal locale. La chiusura alle sei effettivamente era stata molto contestata. Andrea voglio chiederti hai delle domande per il nostro amico Fabio che ci ha fatto un quattro generale? Un'ora va fissata insomma alle sei alle sette. Mi scusi prima della pandemia lei faceva la merenda? Aveva gente che veniva a fare la merenda? Sì perché il nostro è un locale un po' particolare noi abbiamo un nostro è un locale di servizio quindi abbiamo un po' tanti prodotti all'interno del locale ovviamente sono cambiate le abitudini delle persone i numeri che facciamo ora nel pomeriggio prima ce li sognavamo questo sicuramente però non è per tutti così ci sono ristoranti che quello che facciamo noi non lo possono fare quindi chiudere alle sei significa proprio non farli aprire. Diversamente chiudere alle mie due e tenere a meno a loro 200 coperti vuol dire un ristorante importante, di peso. Abbiamo 30 dipendenti, il nostro locale è molto importante per fortuna. Credo comunque che nessuno voglia tenere chiusi i locali per scelta. Questa è una di quelle cose in cui non mi sono mai sentito dall'inizio di questa storia di dover esprimere giudizi. Nessuno vuole per... No tu devi stare chiuso la sera perché vorremmo tutti poter... Fra l'altro io al ristorante ci andavo solamente la sera quindi se non mi riaprono la sera non ci posso proprio più andare. Quindi per carità naturalmente bisogna tenere insieme le cose. Quello che dice lei è vero cioè a qualsiasi orario tu metti poi alla fine crei un assembramento all'ora della chiusura. Perché? Perché sono gli ultimi che arrivano e quelli che se ne vanno lentamente e però dobbiamo tutti quanti imparare... Non avremmo questo problema se tutti imparassimo a distanziare veramente però... Ecco io le voglio chiedere questo Fabio. Secondo lei no siccome noi sappiamo che voi ristoratori siete rimasti chiusi per a lungo no al netto del dell'asporto che molti hanno scelto di non fare tra l'altro secondo lei i suoi colleghi ristoratori sono stati in grado di attrezzarsi come si deve? Cioè noi adesso siamo nelle condizioni di andare a pranzo in un locale e di vedere uno scenario completamente cambiato rispetto a quello pre-pandemia o c'è qualcuno che invece cerca comunque di mettere no di fatto di non far cambiare nulla per recuperare anche le perdite di questi mesi? A differenza del primo lockdown tantissimi ristoratori si sono ovviamente attrezzato no? Quanto meno per cercare di rimanere in vita. Purtroppo ci sono dei locali che sono tutti disposti tipo il nostro. Noi abbiamo lavorato tantissimo abbiamo un tagliere d'asporto che è un no è stato un prodotto che ci ha salvato la vita ma è un prodotto che può essere portato a domicilio. Ci sono dei ristoranti dove invece prima spendevi 100-150 euro per andarci a mangiare ci sono tantissimi qui da noi dove non solo pagare il piatto ma pagare il servizio, la location o tante cose. Queste persone non hanno proprio possibilità di fare domicilio perché avrebbero dato un danno di immagine perché ti porto un piatto di pasta a casa, lo faccio pagare 50 euro, chi lo prenderebbe? Starei costretta ad abbassare il prezzo quindi avendo accuntato non solo economico ma anche di immagine per quelle attività. Quindi non è per tutti così semplice perché si fa presto a dire fare il domicilio o quadro dei liberi ma ci vogliono anche le attrezzature e le strumenti di strumenti anche perché questi cambiano idee ogni 5 minuti. Noi abbiamo inaugurato il primo piano proprio per il distanziamento, abbiamo ampliato il nostro locale di quasi 200 metri quadrati. Per disporre meglio gli spazi evidentemente. Grazie a Fabio, ristoratore collegato con noi all'indignato speciale 0 2 25 15 15. Andrea quando sono quasi le 11 questa immagine del tagliere da sporto che cosa ti ha suscitato? Una certa colina in bocca. Magari dopo parleremo anche di quello chissà. Abbiamo già Veronica con noi collegata al telefono tra poco recuperiamo anche voi allo 0 2 25 15 15. Piccola pausa tra poco. Andiamo a Foggia intanto da Veronica allo 0 2 25 15 15. Veronica buongiorno. Buongiorno a tutti e buona domenica. RTL 105 125 anche mia e vi ascolto dal soggiorno di casa mia. Grazie Veronica. Allora prego. Allora per quanto riguarda le ehm gli assembramenti io parlo da una realtà abbastanza piccola perché chiaramente Foggia non è Milano non è Roma è una città con 170 mila abitanti e io tutte le sede il sabato sera quando posso e quando le le temperature permettono non nego di farmi una passeggiata. Quello che ho visto ieri sera ma che ho visto anche due sabati fa tre sabati fa tranquillamente è di gente che il sabato sera ma non solo il sabato sera esce e fa una passeggiata. Chiaramente se mi chiudete cinema, teatri, palestre e quant'altro è chiaro che la gente dove si riversa tutta per il centro è normale. dove vuole che vada. I negozi almeno affoggi, i negozi diciamo i negozi più belli diciamo così sono quelli del centro quindi la gente tutta quando è in centro. Il problema è che purtroppo anche da noi si crea un assembramento non ai livelli di Milano, non ai livelli di Roma ma anche da noi si crea assembramento. Ma questo perché? Perché se mi chiudete i centri commerciali, mi chiudete il cinema, mi chiudete il teatri e la gente dove deve, cioè in un modo o nell'altro deve anche sfogare il fatto di dover, di poter uscire e dove esce e dove va? Sta in giro per la città, va nel centro. È una cosa matematica. Quindi io sono assolutamente per le aperture di cinema, teatri e centri commerciali anche il sabato e la domenica perché altrimenti non ce ne viene fuori. Tanto abbiamo capito che o si sta in casa o non si sta in casa i contagi crescono. I virus sta lì. Siamo noi che dobbiamo cercare dobbiamo cercare di tenerlo lontano adottando le giuste misure. Quindi la mascherina, il distanziamento e quant'altro. Ma il problema è che nei cinema, nei teatri, io parlo di queste realtà, il distanziamento si può fare. Chiaro che se tu mi chiudi tutto, come fai a distanziare le persone che escono tutte vanno tutte nel centro storico. È impossibile. L'unica cosa che io non abbia al momento... È chiaro, Veronica, io magari ecco lei dice stando in casa o non stando in casa i contagi non cambiano. Forse una differenza c'è. Mascherina e distanziamento sono la nostra Bibbia, è chiaro, però forse una differenza c'è. C'è. Se vi rimangono un po' di tempo, guardate, è una bella esperienza. Prendete il libro di Quammen, che è Spillover, che non è stato scritto sulla pandemia, ma che è pubblicato nel 2012, quindi viene prima. Signora, vado a leggere, lei come tutti noi, l'ultimo capitolo dipende, si intitola, e vedrà, diciamo, se guarda la storia di quei bruchi sugli alberi che crepavano tutti di virus solo perché stavano uno appiccicato all'altro, diciamo che la voglia di strusciarti a qualcuno ti viene meno, ecco, perché quella roba si diffonde solo in quel modo, solo in quel modo, si diffonde, non è che c'era un altro, si diffonde solo perché la massa è troppo è troppo fitta. Detto questo, poi c'è un modo in modo di regolare, diciamo così, è evidente che se vanno tutti a fare la passeggiata nello stesso momento, alla fine ci si assembra più o meno nello stesso posto, però anche in questo caso, mascherina, non strusciarsi, perché l'ascoltatore prima che ci aveva chiamato sul posizionamento delle fotografie, molto spesso, pur di pubblicare l'assembramento, si pubblicano delle fotografie frontali sulle grandi strade e sembrano uno appiccino dall'altro, in realtà, forse visti un po' più dall'altro non è proprio così, perché uno non è che è scemo, cioè vado a cercarmi il contagio. A volte dipende molto dalla prospettiva che si adotta. Adesso dovremo vedere fra una quindicina di giorni, due o tre settimane, che cosa dovesse, la valutazione sarà fatta su quanto accadrà nei numeri. Grazie Veronica, intanto. Il CTS dice che siamo allo 0,84 come RT, l'RT è una delle cose sulle quali si è più dibattuto in questo anno, però non c'è dubbio che l'epidemia c'è ancora, la pandemia non è che se n'è andata, abbiamo superato 90 mila morti, non è che stiamo parlando di bazzecole, quindi bisognerà valutare anche sulla base di queste cifre, di queste analisi, di queste riflessioni. Quello che io vorrei sottolineare è che abbiamo un solo, anzi due strumenti per combattere questa pandemia, i vaccini e gli anticorpi mononucleali, che tra l'altro ieri sono stati definitivamente approvati e anche il via libere è venuto dal Ministero dell'Azio. Anticorpi monoclonali che con il Ministro Speranza ha detto abbiamo un arma in più oltre al vaccino. È assolutamente vero e da tempo che lo sappiamo, tra l'altro prodotti anche in Italia, dalla farmaceutica italiana, dalla ricerca italiana, quindi è molto importante. Il problema sono le vaccinazioni, perché qui Giacalone, Luigi e Pamparana, abbiamo un'idea di quando noi saremo vaccinati la prima volta, prima di avere la seconda, perché ad esempio io AstraZeneca, adesso c'è anche AstraZeneca, ma io non lo posso fare. Perché ha più di 55 anni. Non solo, ma perché sono pure cardiopatico, quindi non lo posso fare, quindi io devo puntare necessariamente per adesso sul Pfizer-BioNTech, in attesa che ce ne siano poi magari anche altri, no? Dal Moderna piuttosto che da Johnson & Johnson, eccetera. Però il piano, ecco, una delle cose, tornando al discorso iniziale di Draghi, una delle prime cose, e lo ha detto il Presidente della Repubblica, è un piano vaccinale serio, che non abbia primule, che non abbia cazzate, ma che abbia una persona che sia capace di gestire milioni e milioni di vaccini. Quando ci dicono, eh ma abbiamo già vaccinato tutto il personale sanitario, allora sappiate che un 40% di questo personale sanitario non erano né medici né infermieri, ma erano impiegati. E comunque stavano lì, per cui, no? Dico stavano lì, era facile vaccinar il problema. Esattamente. Allora, io domando, no? Io domando. C'è ancora Arcuria, quanto sembra. Bene. Voglio sapere più o meno come avverrà la chiamata. Cioè, ci sarà la ASL che mi dirà, Pamparana, il giorno 18 giugno sarai. Cune regioni hanno messo fuori il sito in cui bisogna registrarsi, ma è. Il medico di base aiuta, adesso siamo agli oltreottantenni. È evidente che così ci vorrà molto. Ci vorrà tempo. Niccolò. Almeno due, tre anni. Voglio andare un attimo da Niccolò Giustini, perché è bastato prima accennare in apertura di intervento il tema legato ai giovani, il tema legato al contrasto, al contrasto del bullismo e al ruolo importantissimo di famiglie e scuola. Per i messaggi che arrivano. Sì, allora, intanto innanzitutto ricordiamo il numero, 378-378-1025, parliamo di questo, parliamo di giovani. Io in realtà ho trovato un messaggio molto interessante che chiude un po' anche l'argomento vaccini. Tanti messaggi, ma ne leggo uno, esemplificativo, che dice si deve vaccinare in primis studenti a proposito di giovani e lavoratori, solo così che l'Italia può ripartire. Andiamo a Napoli, allo 0-2-25-15-15, ci aspetta Bruno. Buongiorno Bruno, benvenuto. Buongiorno, è interessante ascoltarvi, guarda, mi fate molta compagnia durante il viaggio. Grazie Bruno, dove è diretto? A Bologna. Per lavoro? A Bologna. Per lavoro e anche lì un po' di famiglia. Prego. Benissimo. Cioè mia figlia è lei che studia e lavora lì a Bologna, infatti io volevo parlare un po' di bullismo per quanto riguarda il fatto che mia figlia ha avuto molto, molti problemi nell'infanzia fino all'età di quasi 15 anni, 16 anni, per via della sua obesità. C'è stato un periodo molto brutto per lei, tanto è vero è stata ricoverata più di una volta in ospedale e ha avuto problemi. Poi grazie ad un'equipe di psicologici l'hanno aiutata, l'hanno aiutata tantissimo e su questa cosa poi lei si è ripresa tantissimo. Oggi ha subito un intervento dallo stomaco e per quanto riguarda diciamo non ce la faceva fare una dieta a calare di peso e quindi poi lei è riuscita ad avere il tizio che lei piaceva ed è essere accettata. Per fare questo intervento comunque ha superato vari test psicologici e pari test anche di medici che l'hanno seguita e dopo tanti anni è realizzata quella che era e sta bene adesso. Questo questo ci ricorda l'importanza di questo tema, l'importanza di non sottovalutarlo mai, non solo quando ci sono le giornate che ce lo ricordano. Le voglio chiedere questo Bruno, poiché la sua famiglia ha vissuto da vicino questa tematica, ha vissuto il bullismo sulla pelle di sua figlia. Secondo lei che ruolo ha la scuola? Immagino quello della famiglia è un ruolo importantissimo perché sennò non sarebbe qua oggi a parlarne, a ricordarci l'importanza di questo fenomeno. La scuola invece? La scuola ha avuto un ottimo ruolo però all'inizio non tanto. Le maestre e i docenti erano, come dire la parola, bruttissimo, se ne fregavano. Non davano tanta importanza a questa cosa. Noi avevamo che il nostro figlio quando rientrava dalle scuole elementari era un po' sempre nervosa, arrabbiata, non mangiava, si chiudeva in camera, non usciva, non studiava e allora poi abbiamo capito con calma tramite una carissima amica sua della scuola che ci ha fatto notare questa cosa ed era vittima di questo bullismo dai suoi amici, dai suoi coetanei che poi il primo giorno che lei è stata, che ha avuto un problema, che è stata ricoverata in ospedale. Molti amici sono stati qui a trovare, gli sono stati vicino e da allora è incominciata un po' a riprendersi. Però poi purtroppo quando c'è alcune comitive che a 15 anni, 16 anni già si è un po' signorine, si è un po' più adolescente, quindi da allora è cominciata ad altri problemi. È un'età complessa sicuramente. È un'età molto complessa. Prima di lasciarla al suo viaggio, alla sua domenica, una domanda per lei che ha vissuto questa esperienza e noi prima abbiamo sentito percentuali preoccupanti perché parliamo di 61% di ragazzi che ha vissuto il cyberbullismo detto che qualsiasi percentuale è grande. La macchia di questo periodo è l'obesità. Purtroppo ce ne stanno tantissime. Da genitori, come pensa che si possa prevenire una cosa del genere? Parlo di bullismo, di disagio in generale, cioè solamente parlando di più nei propri figli. La famiglia deve essere unita, bisogna starci molto vicino e sapere ciò che i figli vogliono, conoscerli bene, non abbandonati a se stessi, assolutamente. Fagli vicino e ragionare con loro, chiacchierare, stare in giro con loro e fagli capire che quel poco di difetto che hanno, quella malattia, come dicono loro, che hanno, è solo un dono che gli è stato dato in questo momento e così deve andare e che poi magari col tempo passerà tutto. Andrea Davide, domande per Bruno, poi lo lasciamo. È molto importante quello che ha detto soprattutto perché il risultato finale è positivo. Non è solo un problema di obesità però, le posso assicurare che ci sono problemi legati anche invece al contrario all'anoressia e all'auto lesionismo. Io ho intervistato questa settimana il professor Giuseppe Bersani dell'Università della Sapienza di Roma, psichiatra, per la rubrica emoticon sulla piattaforma Newsbuy e devo dire che lui ha fatto notare una cosa molto interessante. Ad esempio nella prima fase noi abbiamo avuto andrà tutto bene, quindi c'era in qualche modo sì, la depressione, lo scoramento, la paura, la preoccupazione del contagio, ma c'era l'andrà tutto bene. La seconda ondata non aveva più, è come se ci avessero detto, non è proprio vero, non andrà tutto bene, però avevamo la speranza del vaccino, cioè finalmente la luce in fondo al tunnel, adesso basta, adesso c'è il vaccino, vaccino che non c'è ancora o quantomeno in misura minore, anche se poi vedo che qualcuno scrive che siamo il paese con più vaccinati. Ma questo insomma è un altro tema. Bruno, grazie per la sua testimonianza. guarda che il cyberbullismo è aumentato anche in conseguenza del lockdown e della situazione che si è venuta a creare nelle famiglie. Certo. Bisognerà magari interrogarsi se quel che serve è cancellarlo, cosa che naturalmente è semplicemente impossibile, o diciamo così abituarsi, soprattutto ad educarsi a conviverci per combatterlo, ecco, perché da che mondo in mondo poi gli adolescenti hanno una serie di problemi e devono saperli affrontare, non è che glieli si può evitare, se no non passi mai dall'adolescenza all'età adulta. Grazie, grazie a Bruno per la sua testimonianza, un abbraccio a sua figlia e parlavamo anche del ruolo che devo, dovrebbe avere la scuola. Ci ha contattato Roberto, che è un insegnante, connesso con noi via Zoom. Buongiorno Roberto. Buongiorno a voi e grazie per avermi ospitato. Grazie. Grazie a lei Roberto e buona domenica. Allora, la sua testimonianza di docente, abbiamo sentito queste percentuali preoccupanti di ragazzi che poi, specialmente in fase di lockdown e anche post lockdown, hanno vissuto una situazione di certo non facile. Il ruolo degli insegnanti, la sua testimonianza? Sì, diciamo il problema chiaramente è l'ordine del giorno, perché aumentano le situazioni complicate, anche non è facile rilevare casi di bullismo se non c'è un'apertura completa dei ragazzi, dei compagni, parlo del bullismo a scuola e anche quello cyber, diciamo. E il ruolo qual è? Dipende dalla sensibilità dei docenti, dall'esperienza, ripeto, non è facile, ma prendosi abbiamo risolto situazioni complicate sicuramente. Adesso ho notato che con il lockdown, con la difficoltà di andare a scuola in presenza, ci sono aumentati anche i fondi per le scuole e anche la presenza, per esempio parlo della Puglia, dove insegno Taranto, dello psicologo, come era un po' anni fa presente, fisso o di riferimento. È molto importante che la scuola abbia queste tipologie di riferimento, perché anche per la pandemia le situazioni di difficoltà psicologica sono sicuramente aumentate. I docenti sono preparati, spesso risolvono o vanno a scoprire delle situazioni che potrebbero diventare più complesse dopo. È chiaro. Però è anche vero. Quel personale di cui parla il signor Roberto, che è stato preso con i fondi, è il personale covid che la settimana scorsa, ci correggiamo, per nostra ignoranza, non sapevamo esattamente collocare, definire, sono quelli che poi, al di là del psicologo, diciamo così, che poi prendere il docente in più per sdoppiare le classi, quindi invitare l'assembramento, e poi ce lo si è tenuto sia quando le classi erano a casa, sia quando lo sdoppiamento è complicato, perché poi devi seguire la lezione di matematica anziché di letteratura, anziché di inglese, e non è che lo puoi fare in due classi diverse, questo è un altro fallo di maniche, però avevamo commesso un errore sulla definizione di personale covid, nostra culpa, mia culpa. Grazie, grazie mille Roberto per questa testimonianza che vive la scuola naturalmente dall'interno, e poi ricordiamo, Luigi, vi voglio far aiutare anche da Nicolò, quanto è importante anche il coraggio in questi casi, il coraggio di magari essere vicini e di mettere la faccia per difendere qualcuno che sta subendo atti del genere. Assolutamente, secondo me è anche un atto di coraggio fare outing, quindi riuscire a raccontare che stai subendo queste cose, perché oggi la maggior parte delle reazioni è il silenzio, quindi mi chiudo in me stesso e non reagisco. A proposito, è arrivato un messaggio molto interessante, secondo me, che dice i giovani non sanno gestire il potere che i social network gli danno, e il bullismo sta divampando anche per questo motivo. Il tema della gestione sociale è vastissimo, abbiamo ancora qualche... Temo non limitato a fasce d'età. Esatto, esatto, anzi, anzi, lasciamo vedere. Elvira da Foggia per i nostri ultimi secondi, benvenuta. Salve, salve, buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione. Grazie, grazie Elvira, abbiamo una manciata di secondi, la sua testimonianza su questo. Allora, io sullo bullismo, io avevo chiamato per il covid e volevo solo dire due parole, di guardare anche nei supermercati, perché si chiudono cinema e teatri, ma i supermercati sono stracolli di gente. Per quanto riguarda il bullismo, io sono purtroppo una vittima da ragazza di questo, quindi perché purtroppo le ragazze un po' in carne sono sempre state un po' vittima di questo problema, perché purtroppo si vada molto più al peso del corpo e non a quello del cervello. Purtroppo, Elvira ci racconta che comprende questo fenomeno, perché l'ha vissuto in prima persona, fenomeno che va combattuto con tutte le armi. Gran finale dell'indignato. Chiudiamo l'appuntamento dell'indignato speciale, appuntamento appunto a domenica prossima, Andrea Pampagana, ci ritroviamo forse con un nuovo governo. Sicuramente ci sarà un nuovo governo e quindi sarà interessante questa settimana. Davide Giacalone, la nostra certezza, intanto è la rassegna stampa di domani mattina alle 7.10, non stop assolutamente, non vi liberate così facilmente ogni mattina, quindi intanto buona domenica. Grazie Niccolò Giustini, c'è qualche messaggio da segnalare in chiusura? Chiudo con un bel messaggio che è arrivato all'inizio di questa trasmissione, Paolo ci chiede, avete mai visto Mario Draghi e Batman nella stessa stanza? Ecco, potrebbe essere effettivamente allora un supereroe, dopo che è Super Mario. Intanto ci sono ombre che incombono dietro Davide Giacalone, perché ci seguo in radiovisione, va bene? Grazie a Massimo Lonigro. Grazie a voi, buona domenica. E grazie anche a Endice Carelli per la parte tecnica qui nella capitale, Pio Ingegno, Fabio Romano e Gigi Resta a Milano, grazie Enrico Galletti. Grazie a Luigi Santarelli, ora le ultime news nel giornale orario con Max Vigiani e buona domenica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.